Andrebbe fissata in alto sulla pagina Eh no, infatti non lo vedo Eh ancora un genere, perché io non lo vedo Ah, è assazio 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 quello che ha detto io sinceramente aggiungo alle parole sia tue di Andrea Di Golleri Attilio cioè non mi spiego questo silenzio assordante del Presidente perché se è proprio il difetto principale di Guarasci in questi dieci anni è stata proprio la comunicazione ma comunicazione non intesa come ufficio stampa che stimiamo molto sia Daniele che Gianluigi non è in discussione la comunicazione lui secondo me non ha saputo cavalcare nemmeno l'onda dell'entusiasmo quando hai vinto a Catanzaro quando hai vinto la Coppa Italia quando hai vinto quei playoff con quella cavalcata incredibile come hai detto tu c'erano 20.000 persone allo stadio lui anche in quei momenti non è riuscito a uscire fuori io non mi ricordo un comunicato non mi ricordo delle interviste pubbliche tutto non mi ricordo non è mai riuscito a incentivare il pubblico a farsi innamorare non è riuscito a mai capire che il principale azionista di una squadra di calcio è il pubblico eppure lui ha visto cioè lui ha tastato con mano le potenzialità di Cosenza cioè portare 20.000 persone in un Cosenza Sud Tirol e poi dopo tre anni pian piano disperdere tutto secondo me è un autogol clamoroso cioè nel senso guarascio che la gente dice ma non parla ma lui non parla né nelle sconfitte né nelle vittorie cioè purtroppo siamo nell'era social lui non è un abile comunicatore cioè sia a livelli si potevano fare abbonamenti si poteva incentivare ma forse guarda Pier Giorgio forse il silenzio è anche un modo per comunicare il silenzio è una forma di comunicazione io credo che a lui manchi la sensibilità verso questo sport che stava cominciando ad acquisire sta acquisendo nel corso di questi anni si è approcciato al calcio non avendo nessun tipo di conoscenza dei sistemi, dei metodi della gestione, del controllo di società perché le società di calcio sono società atipiche non è una qualsiasi S.P.A. o S.R.L. o un'azienda che tu gestisci seguendo le regole del mercato il calcio è passione, anima partecipazione, coinvolgimento è sentirsi parte di una comunità bisogna queste cose bisogna maturarle forse nel tempo non lo so guarda è un momento così buio non sappiamo se questo silenzio questo buio potrà sforciare in qualcosa di positivo oppure se questa fase segnerà il definitivo allontanamento dal calcio di questa città di questa provincia signori la provincia è una provincia grandissima una provincia che quando è stata coinvolta nella sua interezza ha dato un contributo straordinario ma quando non è stata stimolata quando non è stata incoraggiata invogliata spinta fatta sentire parte di un percorso di un progetto si è allontanata ecco bisogna recuperare questo come recuperare questo? attraverso quali passaggi recuperare questo? onestamente faccio faccio un altro mestiere faccio un altro mestiere però voglio dire chiudiamo dicendo che non lo so credo che ormai tra qualche giorno qualcosa dovrà dovrà essere detta qualcosa maturerà poi vedremo se dalla parte della tifoseria ci sarà un accoglimento o meno di quelle che sono saranno mi auguro le proposte della società questo non lo so nessuno è in grado di dirlo perché quando si creano queste tensioni quando si crea questo clima che è un clima brutto forte un clima un clima un clima di ostilità non lo so forse ci rimettiamo tutti non sono in grado adesso di di stabilire di immaginare da tifoso da tifoso sottolineo mi auguro che il Cosenza ritrovi quella serenità necessaria per guardare al futuro con uno spirito più più lieto più coinvolgente più luminoso del resto non non posso dire altro mi spiace se vi saluto perché io volevo fare l'ultima domanda al direttore e poi lo ringraziamo anzi già lo ringraziamo per il tempo che c'è però eppure qua rascio quest'anno dopo dieci anni tutti quanti pensavamo che chi torna secondo te perché non ha ceduto nonostante c'è 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 quando c'è un contatto tra chi vuole comprare chi ambisce acquistare un qualcosa deve esserci un'altra persona disposta chi possiede il bene disposto a vendere se non sei disposto a vendere allora delle due l'una o non vuoi vendere oppure l'offerta che ti è stata fatta non la ritieni opportuna valida affinché tu possa cedere il bene che gestisci che hai in mano noi tutto esattamente come si è svolta questa vicenda non la conosciamo conosciamo solo porzioni piccoli pezzi di verità però questo secondo me già questo è indice di una di una fase di grande confusione di grande incertezza quale sarà il futuro questa è la domanda che dobbiamo porci noi volevamo fargli queste domande però lui ci ha negato proprio un incontro con la stampa noi l'abbiamo chiesto più volte a Gianluca però non è stato possibile fargli queste domande ma Gianluca è un dipendente ma Gianluca è un dipendente ma Gianluca è un dipendente Gianluca fa quello che è il suo lavoro è chiaro che l'input deve partire da chi gestisce se io ho desiderio di parlare alla città ai tifosi dire quello che penso in questo momento dico al mio ufficio stampa organizziamo un incontro perché voglio parlare se ho qualcosa da dire se non ho nulla da dire evidentemente non parlo oppure se ho in mente di fare alcune cose e non voglio disvelarle non parlo ecco l'interpretazione è molteplice quando c'è il silenzio si creano sempre situazioni non chiare quelle situazioni di ambiguità è lì che si annida che cresce e si sviluppa poi la frizione si sviluppano i veleni tutto ciò che è possibile immaginare noi lo andiamo ripetendo anche dalla puntata questo silenzio non fa che amplificare questo clima oscuro di rabbia che si sta creando in città purtroppo grazie grazie signori auguri bocca al lupo ciao grazie grazie direttore grazie direttore abbiamo tantissimi messaggi io non le riesco perché poi i tifosi poi giustamente vogliono che commentiamo sì no adesso cerco andiamo prima dell'altro ospite facciamo 5 minuti una carrellata vediamo un po' parlano del ripescaggio adesso daremo anche qualche di Anzulas ci chiedono pure leggi qualche messaggio allora se c'era vivo Giacomo Mangini va bene questo non lo leggo allora fidatemi di me non può parlare perché sa che ci sarà ripescaggio magari questo fa severo Rocco Kundari questo ovviamente sul ripescaggio io dico una cosa io non voglio illudere nessuno perché poi uno dice ma l'hanno detto lì alla trasmissione cioè se ne inizia a parlare a livello nazionale cioè non è che da Cosenza hanno messo in giro questi problemi che ha il Chievo è uscito sono usciti più articoli a livello nazionale dove il Chievo entro la fine di giugno deve ripianare in pratica deve cercare di trovare sui 3 milioni e mezzo 4 di euro hanno delle pendenze con dei giocatori durante l'arco del camionato e in più c'è l'iscrizione al camionato quindi sicuramente adesso daremo anche una notizia diciamo poi sul Chievo perché c'è un comunicato che lascia capire qualche cosa però prima leggo un altro messaggio di Antonello Aprile tra l'altro il presidente di Cosenza del Cuore buonasera amici il tifoso secondo Guarascio è il cosiddetto tifoso botteghino Ergo si deduce che del calcio Guarascio ha capito ben poco e questo ma l'abbiamo detto prima lo abbiamo detto intanto vi dico che l'anno prossimo fare la serie B con o senza Guarascio vabbè ci sono tantissimi messaggi anche qualcuno ha molti più problemi societari il Cosenza che il Chievo Gerardo Mandolito non sono d'accordo su questo con la riforma della serie C alle porte questo Valerio Covucci con Guarascio presidente vedo davvero difficile riuscire a arrivare tra le prime sei visto che è considerato che ci saranno inoltre tante avversarie agguerrite la realtà quindi è che rischiamo seriamente di sprofondare nuovamente tra i dilettanti saluto Valerio che ci segue sempre che è un accento pure elettore chiaramente se c'è la riforma dei campionati tu devi fare la squadra per vingerlo il cambiato poi che non lo vinci e ti piazzi nelle prime tre quattro cinque sei è un altro conto però anche in serie C il Cosenza deve fare una squadra fatta per bene perché anche se ci fosse finalmente questa riforma che se ne parla da anni poi non la fanno mai comunque per essere ripescato nella serie B unica devi comunque fare una squadra in grado di arrivare nelle prime cinque sei posizioni e quindi questo silenzio assordante del presidente ancora non ci fa capire nulla chi è l'allenatore chi sarà il direttore sportivo ci accusano che non leggiamo tutti i messaggi alcuni sono anche tutti è difficile perché sono tantissimi dirò anche poi una cosa su Anzulas se c'era vivo Don Giacomo Mangino piava con il palo invece c'è Maruzzo amico mio lui dice che non te l'avevi detto questo messaggio e invece te l'ho letto Roberto Rezbuccian qualcuno ci ha chiesto di Anzulas ma signori miei come facciamo a riscattare in serie C un giocatore Anzulas il cui riscatto era stato fissato a 700 mila euro perché Anzulas è un giocatore comunque nell'orbita dell'Under 21 greca mentre per Petre e per Ba i riscatti erano a cifre bassi tipo 150 200 Anzulas aveva un riscatto di 700 poi il tifoso può dire sì ma tu adesso incassi i soldi per Falcone per Ba però sinceramente era un riscatto altino per una squadra che si appresta a fare un campionato di serie C poi se in caso dovessimo avere la fortuna di un ripescaggio allora è anche una cifra spendibile però in serie C ti interrombo per un motivo sia perché devo leggere un messaggio più lungo e quindi dobbiamo ma i tifosi sono l'anima della trasmissione ce lo siamo detti prima dobbiamo dare più spazio sono arrivati 50 messaggi però quello che poi magari se vuoi mandare il link ti do anche un'informazione tecnica alla regia perché così magari ci colleghiamo con l'ospite io leggo il messaggio di Valerio Arcuri secondo me Guarascio spera in un ipotetico ripescaggio seppur quasi impossibile quindi la sua fase di riflessione è questa per lui il Cosenza è un'azienda e non spenderà quasi niente a questo punto si punti sui giovani con un allenatore come Zeman che tra l'altro è ribalzata anche questa voce poi ne parleremo magari in zona PGG se c'è qualche cosa in merito ma è l'organizzazione che manca come tutte le cose fatte bene abbraccio voi il mio caro amico Pierpaolo Regista quindi arrivano i saluti a Pierpaolo io invece faccio che ho mandato un messaggino faccio io un saluto a Valerio che da poco ha compiuto gli anni vi faccio gli auguri anche qui in diretta ne approfitto Rocco Kunder PGG illudici per il ripescaggio allora io volevo concludere questo discorso saluto Rocco che ci segue anche sempre volevo concludere questo discorso attenzione noi non vogliamo illudere nessuno però io vi do una data che è quella tra il 25 giugno e il primo di luglio quando scadranno le prime pendenze e si dovranno comunque iscrivere sia le squadre al campionato e si vedranno se le vecchie pendenze sono state saldate quindi io prima del 25 giugno non mi sento di esprimere un giudizio perché però se devo guardare in casa a Chievo ancora non c'è nessun allenatore che hanno preso loro hanno detto che contano di vendere sempre altri giocatori però al momento non hanno né l'allenatore né hanno venduto i giocatori non illudiamo nessuno attenzione perché poi ci possono dire conosciamo la storia però sicuramente tra il 20 e il 25 giugno possiamo dire noi saremo sempre qui in diretta dal Doz capiremo tante cose sulla situazione Chievo anche perché ufficialmente poi l'operazione di mercato non possono avvenire prima dell'1 luglio mi pare perché il mercato inizia ufficialmente sì i contratti si depositano quindi è chiaro che se servono se servono soldi che esce prima comunque la società Chievo si deve organizzare per averli ma io mi ripeto su questa cosa non ci punto minimamente perché penso che il Chievo comunque abbia delle risorse importanti ogni anno sta ridimensionando sicuramente dopo la serie A però è in grado sicuramente di risolvere i suoi problemi intanto ho mandato il link tra poco avremo un graditissimo ospite quindi non ve ne andate perché c'è un graditissimo ospite e poi parleremo nell'ultima parte di mercato un po' di calcio a mercato quindi seguiteci perché ancora ci sono tante cose interessanti ecco forse sì noi vediamo già i nostri ospite fra poco appena il regista ci darà l'ok parleremo con lui perché oggi tra l'altro è una giornata particolare perché proprio oggi tanti non tanti quanti anni erano due o tre nel 2018 nel 2018 c'era tre anni fa c'era un'atmosfera totalmente diversa a Cosenza e al San Vito Marulla e noi ci colleghiamo fra poco con uno di quei uno dei protagonisti di quella di quella partita di quella splendida atmosfera ed è con noi e lo ringrazio per essere a Pianeta Cosenza Massimo Loviso grazie per essere con noi mi senti? buonasera a voi certo mi sento grazie grazie mille ricordavamo stiamo andando un po' indietro con il tempo non molto indietro ma quella serata quei 20.000 20.000 persone che assepevano Cosenza su Tirol per la semifinale era proprio il 10 giugno quel boato incredibile e poi insomma Massimo loviso entrò in quella partita in maniera decisiva intanto ti faccio complimenti perché ancora stai giocando visto 13 gol quindi ti ho visto che quest'anno ti ritroviamo bombe sono in camera sono in ritiro perché giochiamo anche domani pomeriggio abbiamo un tour delle forze di 5 partite come è messo il Castelnuovo in classifica come è messo il Castelnuovo in classifica siamo sempre stati tra le prime posizioni playoff e tutto adesso abbiamo fatto qualche risultato non bello quindi siamo fuori dai playoff però dobbiamo recuperare due partite in più confronti agli altri e ci vogliamo entrare e farli sicuramente perché ce lo meritiamo bene noi ricordavamo quell'atmosfera se sei d'accordo io vorrei io quando ho mandato il link all'Oviso per collegarsi alla trasmissione già mi sono commosso perché ho visto la sua immagine del profilo di Whatsapp quindi non ve la svelo è ancora quella però è una foto bellissima che mi ha strappato una lacrimuccia ma che ne dici Pier Giorgio che facciamo fare un po' straordinario se mandiamo proprio il momento mandiamo quel momento e poi ne parliamo con Massimo che penso che lo potrà vedere chiedo a Piero se possiamo mandare la clip col commento anche di Giuseppe Milicchio che salutiamo che salutiamo vai e siamo alla 25esimo minuto di gioco durante il corso del secondo tempo tutti a saltare davanti alla portiera Offredi cosenza che cerca il gollo del vantaggio e lo fa con tutti gli uomini a disposizione adesso in avanti tutti gli uomini avversari indipresa un po' Così c'è il passaggio, ha segnato Alec McLeod, e questo è il topo di ripresa, e questo è l'ultima voglia, e questo è cos'è, 1-0, ha segnato Alec McLeod. E questo deve essere un rispondere, perché ieri ascoltatori, con 4 Stelle, esattamente dopo i 15 minuti diSN Passù, è in дня arbitrazione per i tutti chi non è, si fa tura, si fa tura perché si spoglia in uno stadio, Rosso e Club, in uno stadio che con questa abrupta, vogliono v divided, e portare il PiS adesso in serie di video, ha segnato Alec McLeod. Allora, come lo raccontiamo, gridando soppusamente Rosaldo, stiamo in religioso silenzio e aspettiamo la palla in rete. Bene. Vediamo un po' come va. Bene. Come va va l'importante è che la palla finisca nella porta e nella rete. Avversario. Al novantatresimo c'è ancora una volta all'Oviso che rimette la palla dall'angolo con la palla. Massimo, forse non so se sentivi anche il commento, probabilmente no per una questione tecnica. C'è il commento di Giuseppe Minicchio. Se lo guarderai in replica. Lo guarderai in replica con la frase Pescara stiamo arrivando sul tuo angolo. Io devo dire, scusami se ti dico la parola, ma sì, è stato l'autogol di Frascatore, però l'Oviso ha messo due palloni col suo piedino. Cioè, nel senso non risulta tra i marcatori, però diciamo che un gol e mezzo è suo. Stiamo facendo un po' di… è bello, il calcio vive anche di memoria, quindi è in un momento buio come questo perché per Cosenza è giusto ricordare quell'entusiasmo. Ma io ricordo anche che l'Oviso entrò perché… Poi tra l'altro, potremmo svelare un arcano, è entrato per scelta tecnica o perché si è infortunato Palmiero? Non so se mi vuoi dare questa risposta perché… Mi ricordo che ero un po' acciaccato, però hai cominciato, questo non lo so se vuole rispondere, però hai cominciato a dare delle palle velenose in aria, la palla non voleva entrare, mi ricordo Mischi, e poi la punizione, il calcio d'angolo, quella spinta, insomma, adesso ti stimolo un po' a te a ricordare quei momenti, ecco. Sono emozionato, ve lo posso assicurare. E il mister mi disse di scaldarmi e io lo continuavo a guardare, continuavo a guardare, continuavo a cercare un suo sguardo nei miei confronti per poter entrare. Venivo da un periodo in cui mi ero infortunato, poi mi ero ripreso e quindi stavo bene. Poi nel momento in cui ho visto che Luca era per terra, che aveva preso una botta, non riusciva più a continuare, ho visto che il mister proprio mi ha chiamato, ero già senza casacca perché immaginavo proprio la partita da tempo, di come la volevo fare, di quello che potevo dare ai miei compagni, alla squadra, e io li immaginavo così, la volevo così, volevo lasciare il profumo a Cosenza. Infatti nel momento in cui c'è stato subito appena entrato un calcio d'angolo, che i compagni di squadra volevano fare un determinato schema, proprio li ho guardati, mi ricordo che c'era Mungo e Dorazzo, gli dissi ogni palla, ogni palla, sia a destra che a sinistra, le metto in mezzo. Quindi se può essere una punizione o può essere un calcio d'angolo, non voglio nessuno schema, voglio mettere tutte le palle dentro. E penso che nel giro di mezz'ora che ho giocato ne abbia calciate circa 10, 12, 13 palle, e di cui due importantissime proprio per la squadra e quel boato, credetemi, è qualcosa che mi rimbomba dentro, è un'emozione fantastica e mi emoziona, mi emoziona e sto parlando a bassa voce, sto parlando lento perché sono emozionato e è un qualcosa che mi riempie di gioia vedere le persone felici e questo è quello che mi fa andare avanti nel calcio, che è la grande passione che ho e quindi sono felicissimo. Manca fare la posta, ieri preparavo la borsa con la mia ragazza perché stamattina dovevamo fare allenamento per partire e guardate che cosa è venuta fuori, non sto scherzando. Bellissimo, guarda. Sembra fatta apposta, ma ve lo assicuro, l'ho messa perché ci dormo ogni tanto con le magliette in cui ho giocato e tutto e questa ci tengo tantissimo e manca farla apposta, non me lo ricordavo che, cioè poi con Pier Giorgio ho detto ricordamelo perché poi sono in ritiro, cioè non mi ricordavo precisamente che avevo la conduzione insieme a voi e ho messo manca a farla apposta in questo giorno questa maglietta dentro la mia borsa per il ritiro. Guarda, interrompo Massimo, non per l'uteneria, però io ascolterei Massimo per ore perché è un oratore. Io lo ricordo anche nelle conferenze stampe nei momenti difficili perché il Cosenza in quell'anno ha avuto momenti difficili dal passaggio da Fontana a Braglia e lui insieme a Pascali ci hanno messo sempre la faccia, erano i leader silenziosi dello spogliatoio. Quindi io ricordo benissimo sia le parole sue che quelle di Pascali che nei momenti brutti hanno sempre cercato dalla loro esperienza di sollevare la squadra e infatti poi alla fine hanno avuto ragione loro. Ricordiamo quella partita anche il sacrificio di Pascali perché Pascali ci fu un'azione dove praticamente la gran parte dei calciatori pensano non faccio fallo perché poi magari vengo squalificato e rendi fida e non giocava alla finale, invece lui fece un fallo che fu determinante perché era un contropiede che era proprio uno contro uno quasi e invece ebbe anche lì la grande personalità, visto che parliamo di personalità, di capire che doveva rinunciare magari a giocare alla finale perché quel fallo era troppo importante farlo. Non so se ricordi, penso che ricorderai benissimo questo episodio. Con Manu abbiamo trascorso un anno in cui sinceramente non abbiamo giocato sempre ma noi c'eravamo sempre perché questa era la cosa fondamentale per creare un gruppo. Ogni volta che noi, che poteva essere che non giocavamo la domenica, al martedì alla ripresa di allenamenti, noi eravamo i primi a starla davanti ma noi per cercare, ripeto, sempre spinti dalla passione che abbiamo per questo mestiere, per cercare di spingere un gruppo a togliersi grandi soddisfazioni perché noi eravamo andati lì per provare a lottare insieme a Lecce, insieme al Catania e compagnia bella e questa era la nostra volontà. Noi l'abbiamo sempre sognata, noi ce lo siamo sempre detti nelle riunioni nostre personali dentro lo spogliatoio, nei momenti in cui parlavamo, che era qualcosa di fantastico e vedere il Cosenza dopo 15-20 anni di nuovo in Serie B era il sogno che si avverava per tutti noi, per la società, per quelli che avevano giocato di meno. E proprio la cosa, ripeto, che mi riempie di gioia è vedere le persone felici, le persone felici al mio fianco che potevano essere i miei compagni, che potevano essere i magazzinieri, potevano essere i massaggiatori. Vederli piangere, abbracciarci è stato qualcosa di fantastico. Io volevo dire a Massimo, cioè volevo fare una considerazione e una domanda. La considerazione è che io ho guardato quella scena che tu baciavi il pallone a 5 secondi dalla fine, perché mancavano 5 secondi e sarebbero stati... Sì, è l'ultima azione. Io vedo Massimo che prende il pallone, lo bacia e lo calcia in una maniera. Cioè poi non ho capito più nulla. Un boato... Ma c'era una spinta su quella palla, sembrava quasi telecomandata, ecco, oltre al piede ovviamente. E poi volevo chiedere, purtroppo... Fu bello, fu bello, scusami, fu bello perché l'arbitro disse che era l'ultima palla, perché eravamo proprio allo scadere. Quindi nel momento in cui c'è una cosiddetta palla inattiva, che può essere una punizione, può essere un calcio d'angolo, non c'è il tempo. Quindi il cosiddetto tempo che mi ha dato l'arbitro era quello di prendermi tutto il tempo che ci voleva per concentrarmi, per mettere in una certa maniera. Poi, ripeto, uno può sbagliare, non può sbagliare, però mi sono preso tutto dentro di me, quello che mi serviva per cercare di mettere la palla più pericolosa che ci potesse essere. Ed è stato così, ringraziando Dio, ringraziando Madre Natura che... Che ti ha dato un bel piedino, dai. possa aver dato delle qualità, spero prima, morali e di testa e poi fisiche. Io ricordo di... l'ho visto, non perché l'ho visto come ospite, anzi, l'anno lo comprai anche al fantacalcio, ha fatto un gol col Bologna contro la Juventus, su punizione. Eh beh, ricordo le intuizioni. Massimo è stato un grande giocatore. Non solo in serie C, ma soprattutto anche in serie A, quindi... Poi gli volevo chiedere, perché abbiamo raccontato solo di belle cose, quando ti ha fatto male invece quest'anno, perché quella promozione è stata tua, di Pascali, di... Ok, Reg, cioè quando ti ha fatto male, vedere quest'anno invece lo senza... mi dispiace veramente tanto, perché nel momento in cui ho avuto la possibilità di seguirlo, lo seguivo, ogni tanto è capitato qualche messaggio con ex compagni, sento spesso il magazziniere, Umberto, che lo saluto tanto, e so che cosa vuol dire per queste persone il poter essere retrocesso quest'anno. Ripeto, è qualcosa che dispiace, perché so che cosa ci avevamo messo per poter portare il Cosenza, la città dove merita, che è la verità. Io quello che mi sento di dire, sempre quello che mi viene dalla pancia, sono uno che ha filtri fino a un certo punto. e ne va a volte anche di quello che sono i rapporti con le persone e quindi vederlo adesso di nuovo in Lega Pro dispiace, in CRC, però sicuramente c'è la volontà da parte di tutti, vedremo poi con il tempo di portare di nuovo questa squadra dove merita, perché c'è un bacino di utenze enorme e che la provincia ha sempre tifato per noi e compagnia bella e quindi vi auguro il bene sicuramente. Purtroppo il momento che vive Cosenza non è una grande incertezza riguardante le vicissitudini della proprietà perché praticamente non ha mai più comunicato con la città dopo la retrocessione, quindi tu conosci sicuramente il presidente Guarascio, ne conosci come tutti i pregi e i difetti, ma in questo momento la città è una polveriera perché si sta creando un bruttissimo ambiente, infatti leggo alcuni messaggi, anche quelle immagini mi fanno ancora piangere, fanno capire quanta passione c'è a Cosenza, piango come quando pianzi al presidente abbracciando Braia l'ultimo giorno a Cosenza, dicendo nell'aprile, e altri Guarascio ha distrutto i sogni di un'intera provincia. Ecco, ritorniamo a bomba su questo momento storico, non è che ti voglio far parlare di quello che non sai, però sicuramente hai riconosciuto la grande potenzialità di Cosenza, come bacino d'utenza, come tutto, come ambiente, e forse in questo momento ci sarebbe bisogno di una guida diversa, ecco, cosa ne pensi? Non voglio farti dire cose che magari, anche se tu hai detto che filtri non ne hai, però è chiaro che la città in questo momento si aggrappa a tutto perché ha bisogno di uscire da questo limbo in cui si trova, di questo silenzio assordante in cui è precipitata dopo la retrocessione. C'ha un bacino d'utenza importante, una passione grandiosa. Nel momento in cui io ero a Bologna, mi chiamò il direttore Trinchera per poter venire lì, cavolo, non ci abbiamo messo tanto a trovare un accordo. Nel momento in cui mi viene chiesto di provare a vincere, che è la cosa che ti riempie di gioia e ti dà stimoli e ho accettato. So benissimo che cosa sta succedendo adesso a Cosenza, ho tanti amici e quindi seguo. E mi dispiace, mi dispiace che si ritrovi a sistemare queste determinate situazioni. Mi auguro che si trova la quadra per rimettere al proprio posto innanzitutto il Cosenza Calcio. Io voglio fare, prima di liberare Massimo, gli voglio fare l'ultima domanda, anzi è stato fin troppo gentile, visto che è il ritiro con la sua squadra. Ma tutti questi gol che hai fatto, sul rigore oppure c'è anche qualche tiro da fuori, c'è una punizione? Perché ho visto che quest'anno hai fatto un sacco di gol. Ce ne sono, ce ne sono, sia su punizione che su rigore, che ho anche un tiro da fuori. Ho fatto il mio record della mia... Diciamo una stagione con un piede particolarmente caldo. Magari se continui ad avere questo piede ci facciamo un pensiero. Eh, diciamo, sì, possiamo pensarci. Io ci vengo subito, lo sai, non ho nessun problema. No, tipo ieri ho fatto gol da calcio d'angolo. È un grande. Perché ti sei ricordato che era il 10 giugno, insomma. Ve lo giuro, stessa posizione. Cioè, verso il destro, verso la porta e nessuno l'ha toccata ed è andato dentro. E quindi sì, sto ancora bene, finché, l'ho sempre detto e lo dirò sempre, finché sto bene, ho passione, proprio a livello mentale, fisica, spirituale, in tutto, voglio giocare a calcio, che è la mia vita. Poi in un futuro vedremo... Io ti ringrazio e però ti faccio quest'ultima domanda perché me l'hai portata tu con il tuo ragionamento, con le tue parole. Volevo sapere, praticamente, che ruolo immagini, perché la passione per giocare ce l'hai ancora, stai giocando, quindi... Ma che ruolo immagina l'ho visto nel mondo del calcio quando finirà, non lo vogliamo dire, il calcio giocato per... Appennerà le famose scarpette al chiodio. Hai pensato a un ruolo per la tua attività nel mondo del calcio? Mi ha sempre affascinato da quando sono piccolo. Forse il ruolo, forse il mio carattere per come sono, un mestiere difficile che è quello dell'allenatore. Questo è quello che vorrò fare. Ripeto, c'è da studiare perché ci sono 25 teste da, tra virgolette, da comandare, ci sarà un direttore, ci sarà un presidente, ci sarà tutto un entourage che gira attorno a questo mestiere, che è quello dell'allenatore. Guarda, io ci avrei giurato che Massimo... Perché lui era già il cervello pensato. In quella squadra sicuramente, io vedo allenatore lui, vedo anche lui, Manuel Pasquale lo vedo pure allenatore, non so quando, ma lo vedo che... Insomma, io mi auguro perché questi personaggi che hanno questa grande personalità, questa grande passione, sono in grado di trasportarle a 25 giocatori, come diceva giustamente Massimo. Io spero magari un giorno, chissà, una cavalcata a Triunvale la facciamo con lo viso anche allenatore nel Cosenza Calcio. È bello sognare, magari ci ritroveremo fra qualche anno a parlare anche di questo e ti voglio ringraziare. Vi ringrazio. La redazione del Dott ti ringrazia. Vi ringrazio tanto, anch'io. Perché ci siamo emozionati insieme e grazie davvero per la tua disponibilità. Un piacere. Ciao Massimo e in bocca al lupo per la partita di domani. Maeri, ti portiamo bene a fare un gol come vuoi tu, tiro da fuori aria, non punizione, va bene? E ve lo dedico. Grazie, grazie Massimo. Grazie Massimo. Grazie, ciao a tutti. Grazie mille. Grazie Massimo, ciao. Allora, ci siamo divertiti. Non ci lasciate perché ci sono anche tanti messaggi e c'è l'ultimo angolo del calcio mercato. Eh, no, lo annuncio. Io non ti preoccupare. In realtà c'è poco ma qualcosa bolle. È una nuova rubrica che... Praticamente la rubrica... Dobbiamo raccontare una netto. Questa rubrica è nata praticamente nella prima puntata di Pianeta Cosenza perché non mi ricordo, ahimè, il nome del nostro web spettatore che ci ha detto dovemmo fare una rubrica di mercato che si chiama Zona PGG. E noi gli abbiamo rubato l'idea perché in effetti chiudiamo la puntata di Pianeta Cosenza con la rubrica Zona PGG. Quindi, prima... Anche se di leggere... Oggi davvero... Oltre 100 messaggi forse. Sì, va bene. È chiaro che alcuni sono... Vi ringraziamo. Sì, sì. Ci scusiamo se non siamo riusciti a leggerli tutti e abbiamo cercato di cogliere quei messaggi che magari ci aiutavano anche nella discussione. Ma io adesso chiedo alla regia di lanciare la nostra splendida sigla per Zona PGG. Bello lo stacchetto. Ancora non lo ho visto. Sì, ma ti devo lasciare solo. Io adesso quasi mi faccio in disparte perché questo spazio è tuo. No, guarda... Allora, che notizie abbiamo anche se speriamo che questa zona PGG aumenti poi nel tempo? Chiaramente il mercato entrerà in fermento i primi 15 giorni di luglio quindi è ancora troppo presto per parlare di mercato. Però ancora iniziano a traperare comunque le prime voci perché sappiamo che Guarascio ama fare per telefono i propri casting. cioè sia per telefono sia alla mezzia e nelle ultime ore pare che ci sia stato un clamoroso riavvicinamento con Piero Braglia perché Braglia è appena uscito dai playoff con l'Avellino ma voi direte ma il Codenza ha un contenzioso c'è un contenzioso tra Guarascio e Braglia però le parti hanno parlato di questo contenzioso e anche eventualmente di una possibilità che possa tornare a Cosenza ancora siamo solo nel livello delle chiacchiere quindi noi quando parliamo non vogliamo illudere nessuno però Guarascio pare che stia pensando un po' per dare forza alla piazza per riacquistare punti di riprendere il condottiero che appunto ci ha portato in serie B vediamo perché nei giorni scorsi sono stati contattati anche tanti altri allenatori tra cui Trocini ma soprattutto bisogna scegliere il direttore sportivo non credo che è già una scelta al contrario quella dell'allenatore noi comunque sappiamo che Guarascio è un padre padrone che le fa lui poi le scelte poi le decisioni quindi da Guarascio ci possiamo aspettare tutto è il contrario di tutto quindi io sinceramente non mi sorprenderei il prossimo anno di vedere di nuovo Braglia sulla pagina hai dato una notizia che io vabbè vedrei è una notizia che è iniziata a circolare purtroppo la stavo verificando in diretta però non è non è proprio infondata quindi poi comunque nei prossimi giorni capiremo sicuramente tante cose ma soprattutto siamo in attesa del nuovo direttore sportivo perché è chiaro che prima di imbastire qualsiasi trattativa non so con Trogini con Braglia o chi per lui bisognerà comunque scegliere un direttore sportivo in grado di appunto scegliere un parco giocatori perché Cosenza al momento noi lo ricordiamo ha solo sette giocatori rosa quindi ci sarà un'intera rosa da ricostruire è da farla in fretta quindi noi invitiamo da questi microfoni perché so che Guarascio ci guarda di accelerare il tutto una volta che non ha deciso più di cedere la società di accelerare comunque i programmi tecnici per la prossima stagione perché i calciatori importanti poi non aspettano metà luglio per accasarsi ma molto prima quindi ci auguriamo che tra lunedì martedì prossimo Cosenza possa avere quantomeno il nuovo direttore sportivo i nomi che ballano sono sempre gli stessi quelli di Gian Marioli quelli di Valotti che sembra il favorito però non escludiamo sorprese dell'ultimo istante quindi ancora c'è poco di calcio mercato però quel poco che c'è noi ve l'abbiamo riassunto in tre minuti diciamo che hai dato una notizia da verificare ovviamente perché sembra quasi inverosimile come si sono lasciati Guarascio e Braia con un condensioso quindi però no no mi assumo le responsabilità di quello che ho detto io non ho detto che Braia sarà l'allenatore del Cosenza ho detto che parlando del condensioso del più del meno ci potrebbe essere anche un un clamoroso rilancio da parte di Guarascio forse per calmare un po' la piazza per per portare qui di nuovo Pierino la peste però questo ancora è troppo presto per dirlo sicuramente nei prossimi giorni vi terremo informati va bene io credo che possiamo chiudere abbiamo detto tutto ci siamo divertiti ci siamo emozionati e abbiamo passato quest'ora in vostra compagnia sperando poi che nelle prossime puntate possiamo avere sempre più notizie anche di calcio e possiamo un po' rompere questo silenzio e parlare di progettualità perché questo clima intorno al Cosenza è veramente difficile anche per noi da gestire e da comunicare con i nostri web spettatori io tra l'altro ricordo l'appuntamento di domani perché noi domani siamo in diretta di nuovo qui dal VStudio con sempre Pierpaolo Mazzulla la regia dal DOT perché abbiamo un nuovo format che è quello di EuroDOT seguiremo le partite dell'Italia noi ce la vedremo insieme come redazione quindi faremo un po' di famiglia un po' di gruppo però c'è un appuntamento due strisce una dalle 20 alle 20 e 30 nel pre-partita della nazionale commenteremo la formazione eccetera e poi alla fine faremo una mezz'oretta di post-partita per commentare un po' quello che è stato il risultato della partita inaugurale degli europei all'Olimpico tra Turchia e Italia e avremo graditi ospiti li possiamo svelare Stefano De Angelis ex tecnico del Cosenza e anche Aurora Levati di Stabia Channel e Pianeta Serie B e ovviamente con noi ci sarà anche tu sarai collegato come prezzemolini in ogni minestra però ci sarà ovviamente il nostro direttore e Vincenzo Gallo quindi è una bella squadra è una bella squadra siamo quasi al completo vi ringraziamo e l'appuntamento è alla prossima con Pianeta Cosenza sigla ciao per la prossima per la prossima Per la prossima Grazie.